E' un'altra cosa. D'accordo. Conosco il linguaggio del corpo e il suo diceva dammelo. Com'era il tuo ragazzo? Timido. Io perdo interesse nelle persone. Immagino che siano più affascinanti della realtà. Potresti essere espulso se venissi trovato qui. Io non sono qui davvero, è un sogno. Ho un'erezione assolutamente mostruosa. Cosa riesci a vedere? Si vede tutto. Ma che cosa hai fatto a quello che... Ho il fuoco. Io credo che se un ragazzo mi piacesse abbastanza, vorrei farlo. Una camera per una notte. Con un letto matrimoniale. Esatto. Che cosa avete fatto questa notte? Ragione, non devi dirmelo. Che cosa ha parlato. Grazie a tutti